Ne parleremo con i nostri ospiti che ora vi presento, con i nostri relatori, che sono invece molto utili, quindi senza naturalmente dare alcun giudizio, ma semplicemente rappresentando quella che per noi è la chiave d'accesso a questa società, proviamo a parlarne questa mattina. Proviamo a parlarne cominciando a raccontare che cosa sono gli algoritmi, perché insomma alla fine da quelli dipendiamo e da quelli dobbiamo cominciare a smarcarci, a prendere coscienza di come funzionano per non essere appunto vittime degli algoritmi, ma semplicemente dei consumatori. Quindi cominciamo con Michele Mezza a introdurre questo tema degli algoritmi proprio per cercare di capire di che cosa stiamo parlando, senza naturalmente arrivare alle definizioni scientifiche o cose complicate, solo per prendere coscienza. Grazie, buongiorno a tutti, grazie Marco, devo dire davvero un'emozione per me perché io in questi anni sono stato una specie di stalker degli algoritmi, nel senso che perseguitavo la gente chiedendogli, e per favore parliamo degli algoritmi, trovarmi in questa orgia è proprio come un bambino chiuso in un negozio di giocattoli, per non fare altre metafore più conturbanti. Anche perché io devo misurare un dato, lo dico davvero senza iattanza, non vuole... All'ingresso. Scusate. Che due anni fa io partecipai all'iniziativa gemella dell'altro Marco di Giovannelli a Varese, e il tema due anni fa, non 22 anni fa, due, a un certo punto affiorò il concetto di algoritmo. Allora, in realtà io il tema che vorrei proporvi è un po' più apodittico, per cui anche perché abbiamo poco tempo e vorrei isolare i concetti che proporrei al dibattito anche agli altri colleghi relatori. Io userò un linguaggio un po' fastidiosamente apodittico, ve lo dico subito per non perdervi tempo. In realtà quando io dico penso, voi intendete che io sto usando una perifrasi più complessa, che è io, ultimo della fila di ben più prestigiosi pensatori, adevisco alla scuola di pensiero di... così evito tutte le volte, perché quando dico penso, altrimenti la gente si mette a ridere di Gesù sugli Algovit, perché la situazione è complicata. Per cui la premessa è che stiamo ragionando dell'oggi. Il futuro non me ne frega niente. Non so cosa sia, anche per questioni d'età, come diceva Keynes, nel futuro saremo tutti morti. Il ragionamento è 12-24, temerariamente 36 mesi. Poi chi vivrà, vedrà. Per cui non stiamo guardando nella palla di cristallo per raccontarci le guerre stellari. Non sono capace, poi ci saranno quelli bravi che ci racconteranno tra vent'anni che cosa farà il ferro da stiro, eccetera, eccetera. talmente, insomma, si parla dell'oggi che parlo di ieri. Questo passaggio è la frase centrale delle dimissioni di Benedetto XVI, febbraio 2013. I due elementi fondamentali sono temporis rapidis, che, insomma, persino io mi ricordo, insomma, che cos'è, è perturbato. Cioè il Papa prende atto che il processo di innovazione è talmente rapido che è, tra virgolette, teologicamente, ingovernabile. E questa è la spiegazione. Poi Derek aggiungerà ben altre considerazioni, ma It From Bit è l'icastica definizione del nostro tempo e ci viene da uno straordinario testimone. John Archibald Wheeler fu l'ultimo collaboratore di Einstein, morì nel 2008, longevo, e con questo It From Bit fotografò esattamente il tempo che stiamo vivendo. Tutto è comunicazione che si muove. Tutto è comunicazione che si muove. Al di sotto non c'è niente. E questa comunicazione in realtà diventa, proprio per il suo movimento, informazione. E l'informazione, oggi, è solo intelligenza. Non a caso in inglese il termine è assolutamente unico. Intelligence. Che vuol dire sia informazione che capacità analitica dei dati. C'è questa letteva di Shannon a Vanuvar Bush, che sono i due veri giganti di questa epoca. Il più straordinario visionario dei sistemi dell'informazione e il più straordinario sociologo, insomma, degli ultimi due secoli, che nel 39 proprio fissano questo passaggio. L'informazione deve essere intelligenza. In italiano, tra l'altro, lo noto per un'osservazione, c'è solo un momento in cui i due termini sono usati come sinonimo e lo fa niente po' di meno che Niccolò Machiavelli, in una lettera che scrive al Duca d'Est. Dunque, al tempo dell'intelligenza artificiale, l'informazione diventa tecnica. O meglio, al tempo dell'intelligenza artificiale, i modelli e i contenuti dell'attività informativa sono strettamente connessi e condizionati dai modelli tecnologici. Piccola parentesi, scusatemi perché se no questo è il secondo elemento che mi piacerebbe discutere con i colleghi. Insomma, Derek, anche lui, so che ha una visione un po' diversa, almeno terminologicamente, ma io penso che ogni discussione che usi strumentalmente il termine ma tecnologia sia una truffa. La tecnologia non esiste. Esistono le relazioni sociali fra gruppi di uomini che creano gearchie in base a sistemi di potere. Per cui la tecnologia non esiste. Soprattutto non esiste quella visione onirica e hollywoodiana per cui ci sarebbe tra poco lo scontro tra gli esseri umani e le macchine. Stiamo parlando di rapporti conflittuali fra gruppi di esseri umani. Alcuni producono le macchine, altri le subiscono. Perché se no non ci si intende. tant'è vero che la tecnica, uso un testimonial ben più prestigioso di chi vi parla, è l'organizzazione dei mezzi per produrre dei fini per cui ogni sistema intelligente viene concepito, progettato e formattato per determinare un fine sociale. Dunque non è neutro. Mai. Nessun dispositivo tecnologico di quelli che il buon Dio ci ha mandato sulla terra è neutro. Ha disegnato rapporti sociali, gerarchici, determinati. Vi cito l'esempio più banale. Black Mirror, come sapete, è uno dei successi di quel fantasmagorico linguaggio che sono i sivi al televisivi. Beh, proprio in questi giorni, come vi sarà capitato di inciampare nella notizia, si è concluso il congresso a Pechino del Partito Comunista cinese e si è concluso con due dati. Il primo, il segretario Xi Jinping, che è segretario, presidente, portiere, allenatore della squadra di Gadot ha preteso insieme alle undici posizioni apicali del potere cinese di essere designato come il tutore del sistema tecnologico del Paese. E il sistema tecnologico del Paese si basa su questo meccanismo che andrà in funzione a metà del prossimo anno e dal successivo sarà obbligatorio, che è un'anagrafa digitale dei comportamenti di tutti i cittadini cinesi dal punto di vista comportamentale, economico e emotivo. Cioè è un sistema, è una piattaforma a cui obbligatoriamente bisognerà accedere che censisce. Ovviamente il raccapriccio in Occidente è generale, dicendo ma che vergogna. Zircol, che ci ha fatto vedere Marco, è esemplare. Tra l'altro il libro, se vi capita di leggerlo, è ancora più spietato e dettagliato del film, come spesso accade. Il passaggio del libro fondamentale è che a un certo punto il capo di Zircol dice avere un sogno è bene, avere un piano è meglio. E il piano è Black Mirror. I cinesi in pompa maglia lo hanno adottato. Google e Facebook lo stanno praticando da sette anni in maniera massiccia in tutto l'Occidente. Noi siamo su Black Mirror, siamo in onda già da tempo. E questa è un po' la causa e l'effetto di questo processo. Già Italo Calvino, stiamo parlando metà degli anni Ottanta con le elezioni americane, ci dice il software comanda. Il software si sta mangiando il mondo. Tutto è software. Dunque tutto è algoritmo. Tutto è sistema matematico che organizza in maniera non ambigua istruzioni per risolvere un problema in uno e in un solo modo. Questo è l'algoritmo. Una serie di istruzioni matematiche non ambigue per risolvere un problema in un solo modo. Il tema di scontro e di conflitto è proprio nella affermazione finale. Non c'è mai un solo modo per risolvere un problema. Ma quello di cui noi stiamo parlando non è quello che generalmente parlando con giornalisti, quale umilmente sono, la questione dei social, Facebook, Google. Fra qualche anno voltandoci indietro rideremo quando pensiamo che abbiamo perso qualche ora della nostra vita a discutere di alcuni flipper per bambini quali sono i social. La potenza di calcolo, ci dice Craig Vender, serve a riprogrammare la vita umana, non a giocare sulla rete con i social. Quello che sta accadendo è che gli algoritmi, cioè quel sistema di istruzioni che vuole risolvere ogni problema in un unico modo, stanno riprogrammando dal punto di vista biotecnologico la vita umana. Ed è su quello che dobbiamo discutere, di cui la rete è un indotto assolutamente parziale. Ed eccolo qui. Questo è un algoritmo. Noi stiamo discutendo, ovviamente questa è una delle versioni più naif, più banali, più elementari. Voi tenete presente che gli algoritmi medi di cui noi ci serviamo, ad esempio per fare i commenti su Facebook, sono composti da 3-4 milioni di queste righe. Ma il punto qual è? Che questo sistema, come dicevo, sequenza di istruzioni matematiche che prevede la risoluzione in un solo modo di un problema, ha alcuni punti sensibili. questo è un algoritmo che serve a ordinare un sistema di oggetti in maniera decrescente. Per cui una banalità. Che cosa vuol dire però? Che lui deve avere che qualcuno che lo ha programmato gli ha spiegato come si valuta il concetto di grande e il concetto di piccolo. Perché in base alla comparazione di questi due concetti che lui alligna. Ma voi vi rendete conto quanto sia discrezionale, soggettivo e interessata la valutazione di questi valori. E sicuramente non neutrale. E ultimo punto, sicuramente modificabile. Ultimo dato, dunque negoziabile. Non c'è nulla di iperscrutabile, di deterministico, di insolubile all'interno di questo meccanismo. Questi due signori, tanto facciamo un po' di storia perché così diamo senso al fatto che Marco ha ritenuto utile, invitava anche me, rappresentano il passaggio decisivo di questa storia. Siamo a metà del Seicento. E gli algoritmi, ci dice Pedro Domingos, che ha scritto questo straordinario saggio sull'algoritmo definito, diventano da definiti efficienti. Cioè gli algoritmi che fino allora erano poco più che esercitazioni accademiche, perché non erano finalizzati all'attività produttiva e organizzativa della società, diventano immediatamente funzioni del governo sociale. E subito dopo arriva quest'altro signore, vi prego di vedere, siamo in un passaggio epocale della storia dell'umanità. In pochi decenni alcuni giganti del pensiero umano si, come dire, incontrano intorno a questo tema. Come la vita umana diventa sistema matematico. Ed è un passaggio cruciale che avviene al riparo di ogni possibile interferenza, diremmo oggi, tra virgolette, democratica. Di ogni possibile confronto pubblico, critico e negoziale avviene all'interno del consesso degli spiriti eletti. La riflessione di Leibniz ci serve per introdurre un tema. La musica è una pratica occulta dell'avitmetica in cui l'anima non sa di calcolare. Dico questo perché l'esempio, così concludo con un esempio concreto, che mi aiuta a inquadrare il dato, è il nuovo algoritmo di Spotify. Credo che molti di voi dall'età che intravedo in sala, molto più di me, usino o abbiano dimestichezza col mezzo. Stiamo parlando di un sistema che sulla base di profilazioni individuali è in grado di proporci quella compilation che aderisce talmente al nostro gusto che si fa scegliere persino rispetto a quella che faremmo noi. Questo è il successo di Spotify, se no andrebbe per stracci. Ma non è più così. Da aprile di quest'anno il nuovo algoritmo di Spotify non lavora più sull'aderenza tra il mio profilo e le opportunità musicali che mi propone. ma lavora per prefigurare l'evoluzione del mio gusto nei prossimi cinque anni e individuare cosa, come e in che termini consumerò musica in quel periodo. cioè cerca di calcolare l'evoluzione emotiva e culturale della persona siccome Spotify è anche editore e produttore di musica l'operazione ha due fini da una parte avere dati una cartografia del mercato futuro e fin là, devo dire, non sarebbe neanche niente di male ma il termine esatto che invece interviene è che con le sue musiche che ci propone nell'evoluzione dei cinque anni Spotify è in grado di interferire col mio profilo e l'evoluzione del mio profilo. la domanda più banale di un cronista da strada è ma se invece di musica si parla di voti che succede? se invece di musica si parla di evoluzione degli interessi e dell'emotività di un polviscolo sociale che poi diventa corpo elettorale che succede? non che succede è già successo questo la partita se l'è vinta così questo la partita l'ha pianificata in maniera straordinaria così Cambridge Analytica che è questa società inglese che ha un database di 78 milioni di profili di elettori americani divisi per particelle catastali via Michelangelo 22 terzo piano 78 milioni ha costruito quel grafo sociale che ha permesso al netto dei contenuti a questo signore di costruire una straordinaria campagna mandando non solo ed è una stupidaggine e chi dice questa vabbè non apriamo quella porta delle fake news perché sennò la carne è debole e trascenderei però mandando porta a porta esseri umani a bussare ma vi rendete conto cosa significa bussare una porta di cui tu hai la certezza di chi ti apre cosa pensa come lo pensa e soprattutto come lo dice e come lui si aspetta di essere interpellato da me e tombola piccola parentesi lo dico per curiosità Cambridge Analytica ha annunciato che un partito italiano ha firmato un contratto con loro non so quale sconsiglierei tutti di pensare che sia l'altro direi ognuno sia certo prima di dire l'altro così lo consiglio diciamo ma teneramente allora andiamo insomma l'algoritmo viene da lontano insomma questo signore insomma ce l'aveva spiegato il famoso passaggio del 600 di cui vi ho detto è questo cioè instaura una relazione fra un dato geometrico banale in base al quale tutte le variabili collegate mutano questo è il sistema allora in questo sistema il punto io ve lo dico chiaramente così discutiamo a carte scoperte a me della privacy non me ne frega niente lo considero una velletà per ricchi annoiati quello che considero elemento sensibile è la prescrizione culturale annessa alla struttura semantica e cognitiva dell'algoritmo questo a mio parere è il tema allora il problema è se l'algoritmo come abbiamo visto non è neutro se l'algoritmo come abbiamo visto è una composita formazione ideologica basata sugli interessi di chi lo produce il tema che si pone è è negoziabile questa potenza di calcolo o no così come nel secolo scorso un'altra straordinaria potenza di calcolo che si chiamava fabbrica si annuncia come meccanismo tecnologicamente deterministico inviolabile e poi grazie a dio diventa uno straordinario produttore di civiltà in virtù del conflitto sociale se avessimo fatto questo convegno all'inizio del novecento il tema è come si sta in un meccanismo in cui si lavora 16 ore al giorno i bambini di 9 anni bla 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 tutti avremmo detto ragazzi la fabbrica è di quello là che gli vuoi dire quello là fa quello che vuole no gli statuti proprietari non condizionano i processi sociali che travalicano i limiti privati quando un processo sociale diventa pubblico non risponde più a uno statuto proprietario la sanità la scuola la televisione l'abbiamo spiegato a quello là ma a quello là bisogna chiedergli scusa è Giacomo Leopardi in confronto alla potenza di condizionamento di questo tutti ad arco e in ginocchio dicendo mai più ecco questi sono i due passaggi i due pezzi di questo algoritmo sensibili sono esattamente i due momenti in cui viene calcolato un valore voi immaginate il valore buono il valore cattivo il valore efficiente il valore sano il valore abilitato il valore noto il valore notizia è così e di conseguenza questo determina gearchia e potere sociale l'autorità è sempre espressa in termini algoritmici black mirror cinese black mirror di google questi sono i due modelli che abbiamo di fronte l'algoritmo nazione e l'algoritmo mercato vado in fretta perché Marco già mi guarda malissimo e vado al punto finale sono troppe le cose che stai dicendo chiudo su questo punto ma tutto questo perché è causa o defetto di questo processo vedete questo è uno straordinario quadro di op ma questo ci fotografa esattamente la base sociale degli algoritmi su questo bancone manca solo un tablet individuo solo occasionale con tempo libero è la base sociale del mondo degli algoritmi dunque non c'è il soggetto negoziale dunque io penso ed è da qui che si riapre il cantiere tre sono i soggetti negoziali adesso non faccio il ragionamento perché sennò Marco tira giustamente il microfono primo chi sono i soggetti lo dico all'assessore primo le smart city non si fa l'innovazione comprando il digitale tanto al chilo l'amministrazione la pubblica amministrazione è titolare degli algoritmi così come è stata titolare del piano regolatore sull'edilizia in una città la città è l'elemento che valida gli algoritmi Apple Google Facebook vivono perché le città ne adottano le piattaforme non si può più fare Hamburgo ha impallato Facebook gli ha dato tre ore per riorganizzare i sistemi cognitivi in due ore e mezzo il ragazzo che allatta sempre il figlio quanti ne ha di sti figli da allattare è andato ha detto ok allora la città è un sistema negoziale quanto conta sul mercato degli algoritmi Milano Roma Napoli Parigi Londra Hamburgo secondo le università quale altra comunità ha il potere di essere utente produttore e validatore dei sistemi tecnologici nessun'altra la sapienza la Federico secondo il Politecnico di Milano sono soggetti negoziali degli algoritmi terzo punto arriviamo a noi le categorie professionali ma di che deve parlare un giornalista se non dei propri algoritmi che ha quando apre il proprio portatile o entra in redazione e si mette al proprio sistema editoriale che cosa c'è lì dentro lui cosa ne sa di come vengono ricomposte riformulate reimpaginate i criteri delle informazioni se non le contratta prima e se non siamo noi come giornalisti fra gli altri insieme ai medici insieme agli avvocati insieme ai mediatori insieme ai professori i rappresentanti di un interesse sociale ma perché mai dovrebbero ancora pagarci perché facciamo le notizie ma vi prego cani e porci agli angoli delle strade le fanno le notizie non è più roba che come spiega Lionel Barber il presidente e il divettore insomma del financial time non è cosa che afferisce più al giornalismo l'informazione due ma è così allora che sono i soggetti negoziali bisogna trovare le pratiche bisogna provare gli interessi bisogna trovare i momenti questo nel nostro piccolo è uno di questi grazie Marco avendo una certezza che è questa grazie a Dio e ce lo dice un grande maestro sia di innovazione che di disubbidienza noi là la troviamo l'innovazione lungo quella stretta via e sull'intraprendenza non lo so ma vi assicuro che sulla disubbidienza ci insegnano poche cose grazie grazie Michele Mezza evidentemente è un intervento a dir poco denso come si dice lui ha detto praticamente tutto ma rimane da dire moltissimo e abbiamo per fortuna altre persone che possono interloquire su queste cose un brevissimo riepilogo Michele è già arrivato al fulcro del problema quello che vorremmo porre come dire indicazione finale del nostro convegno cioè la negoziazione e lui ha già suggerito anche dove questa negoziazione potrebbe avvenire e questo indubbiamente è uno dei problemi ed è probabilmente una delle cose su cui dovremmo tutti noi riflettere è un'unità che è un'unità di più che è un'unità e di più Grazie.